Musica Buonasera amici ascoltatori e benvenuti al Moon Talk rubrica Jurassic Parma la rubrica che parla delle vicissitudini legate al Parma Calcio 1913 condotta da me ovvero Andrea inizio subito quella puntata di oggi ringraziandovi per le visualizzazioni soprattutto le grandissime interazioni legate al video della settimana scorsa avevo fatto una domanda e ci sono state tantissime risposte tanti di voi devo dire che hanno convenuto che il Parma fosse quasi obbligato a fare questi tre punti contro il Genoa tra l'altro tre punti che sono arrivati vittoria importantissima il Parma fa questo gradino scala questo gradino e arriva a 33 punti una posizione che lo rende molto più tranquillo nei riguardi della lotta a salvezza probabilmente mancheranno ancora tre punti tre quattro punti però insomma c'è tempo per farli e c'è sicuramente più calma nell'ambiente sia dentro la squadra che dal punto di vista dei tifosi dicevo torna nei tre punti ma torna anche la cifra zero nei confronti del gol subito da questa squadra e non è un caso perché è tornato un elemento importantissimo che risponde da Uedini Marco un terzino di cui il Parma aveva veramente bisogno aveva impostato la stagione per poterne sicuramente godere per molte più partite purtroppo c'è stato questo infortunio è tornato dall'infortunio e si vede veramente che è un giocatore di un certo livello io spero che resti anche l'anno prossimo perché già in questa sua partita di riesordio con la maglia crociata ha dimostrato di essere veramente un elemento imprescindibile per la difesa giallo-blu se pensiamo che il Parma non subiva zero gol dalla partita contro il Bologna 0-0 del 22 dicembre insomma un'eternità tantissime critiche per il gioco ma posso dire a chi se ne frega il Parma non fa sicuramente calcio champagne ma non è veramente questo quello che gli si chiede il Parma deve salvarsi, deve fare un bel campionato ma non deve essere la squadra, il Brasile degli anni 2000 insomma il Parma deve fare il Parma la gente spesso confonde una squadra vincente con una squadra che gioca bene perché si diverte di più in realtà l'Italia del 2006 non giocava un bel calcio l'Inter di Morigno non giocava un bel calcio era una squadra molto solida e molto compatta subivano pochissimi gol e per quello poi portavano avanti i risultati tornando a parlare della prestazione col Genoa è stata una partita molto chiusa con pochissimi spazi e devo dire che il Parma l'ha vinta per un episodio ma benissimo così ci sono state tantissime critiche anche per quello che riguarda il gol sbagliato da Gervinio e anche qui dico ok ha sbagliato il gol a porta vuota avrebbe potuto passare la palla ai compagni però ricordiamoci sempre che Gervinio è nel Parma per un motivo non è il calciatore perfetto ha messo che questo esista ha fatto un errore ma non ha pesato sulla partita e anche se avesse pesato ricordiamoci sempre che il Parma ha i punti che ha ha fatto quello che ha fatto quest'anno soprattutto grazie a Gervinio inglese quindi gli possiamo perdonare qualche errore e sempre a proposito di attaccanti lancio il tema della giornata di oggi ovvero 3x1 chi ha il fianco di Gervinio e inglese abbiamo tre giocatori di fatto che stanno lottando per avere un posto da titolare in attacco se nelle altre zone del campo c'è veramente penuria di elementi in attacco devo dire abbiamo l'imbarazzo della scelta perché abbiamo dei giocatori che sono relegati in panchina ma potrebbero tranquillamente giocare tutti e tre titolari cito quindi questi tre elementi che vediamo nell'immagine di copartina della giornata che sono Biabiani, Siligardi e Schiappacasse andiamo quindi a parlare del perché ognuno di questi giocatori meriterebbe la maglia di titolare iniziamo da Siligardi un giocatore che io veramente adoro stravedo anche perché è l'unico nel Parma di quest'anno che sa avere il passaggio filtrante ha una visione di gioco veramente eccezionale che solo in parte Scozzarella riesce ad avere giocatore tecnicamente elevatissimo giocatore che però non è nelle grazie di Daversa soprattutto sappiamo che in passato è stato addirittura molto vicino a lasciare i crociati ma per fortuna è rimasto con noi e sta facendo un campionato veramente interessante a mio avviso meriterebbe di giocare titolare molte più partite Biabiani, sapete che non gli ho risparmiato critiche nell'arco di quest'anno non mi sta piacendo come sta portando avanti la stagione tuttavia è un elemento valido per la Rosa del Parma è abile sia in fase d'attacco che in fase difensiva credo che tuttavia il suo uso sia da preferire a partite in corso perché con le sue caratteristiche riesce a spezzare la partita a dare quel colpo di nervi in più quella corsa in più che potrebbe mettere in difficoltà delle difese stanche Schiappacassa invece è la scommessa un giocatore che viene da Atletico Madrid di cui si parla un gran bene ho visto alcune partite disputate da questo elemento veramente interessante ha un margine di miglioramento infinito può essere veramente in futuro un top player però dovrà veramente lavorare tanto e lavorare sodo per potersi guadagnare da prima la maglia titolare poi un ruolo di rispetto nel calcio che conta vi ricordo la domanda nel nostro mazzo di carte di attaccanti chi volete titolare a fianco di Gervinio e Inglese vi ringrazio per aver guardato la puntata e vi do appuntamento la settimana prossima sempre lunedì per una nuova puntata del Montolka rubrica Jurassic Park seguitici sui nostri canali Facebook, Instagram e Youtube ciao a tutti e buona settimana a tutti e buona settimana